146.013 è questo il numero dei vaccinati con ciclo completo riguardo il personale scolastico presente negli istituti scolastici della Campania. Lo dice l'assessore all'istruzione della regione Lucia Fortini. Siamo tutti orgogliosi dello straordinario senso civico dimostrato dai dirigenti scolastici, dal personale docente e non docente, che non smetterò mai di ringraziare. La scuola campana, sottolinea La Fortini, ha dato prova di unità e determinazione nell'affrontare il covid-19. Vaccinarsi è l'unico metodo per sconfiggere il coronavirus. Abbiamo tutti il dovere di proteggere noi stessi, le nostre famiglie e tutti i concittadini.